allora allora cosa posso dire nei social network su instagram birrio instagram stories la gente cosa fa scrive le captions prendendo scrivendo parole inglesi assurde mai sentite parole che parlano inglesi usate pochissimo anche dai madrelingua che usa che usa veramente pochissima gente che ogni volta che le vedo che il 90 e passa per cento delle volte non le conosco io io che sono non sono nessuno in inglese sono una persona molto limitata con diversi limiti che non è un gran che cioè sono bravo ma non ma non sono il top per per dirla in alcune parole una persona comunque brava che ha un ottimo livello che si trova il 90 per cento delle parole sconosciute secondo voi è possibile questa questa gente qua secondo voi è possibile che il 90 90 per cento delle parole che le cerco sono sconosciute secondo te questa gente le sa tutte le parole o sarà forse che che prima di mettere il post la caption su birrio su instagram sulla storia se si consulta google si cerca cinque sei sinonimi è quello più sofisticato lo spalla nella caption per fare il sapientone non sarà forse questo il caso perché non è possibile se col cazzo io che questa gente qua col cazzo che mi porta sui banchetti di scuola allora molta di questa gente è veramente brava ci sarà anche gente più brava di me gente più brava di me più brava di me che che mi può insegnare che che mi porta che scrive queste caption però quando scrive queste caption tu vai le cerchi su google o le cerchi su world reference su quell'altro sito di cui non mi ricordo non mi ricordo il nome adesso comunque un altro sito per traduzione quindi che che dire che che io che questa gente è anche una bella tattica quella che fa non sto negando gente tra l'altro c'è anche gente più brava di me che fa queste cose che che inglese da cui inglese posso solo imparare che fa queste cose è una bella tattica perché impari molte parole e io anche posso ringraziare che imparo molte parole anche io leggendo questi 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 stati queste captions queste storie però che altro dire che la persona che che veramente porca troia tutte queste parole col 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 cazzo in mano le conosci perché non le conoscono in madrelingua col cat col cazzo col cazzo qua in mano che le conosci tutte quelle parole la che metti fai il sapientone tu fai il sapientone fai il sapientone tu e tu flexi l'inglese come se fosse un sapientone perché è una cosa vergognosa che che tu pensi di sapere più parole di madrelingua e allora se non se 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 più parole di un madrelingua perché se sei qua a a cagliari a fare non so cosa fare l'università quello che è e non sia a lavorare all'annato perché non sei a lavorare con come cazzo si chiama la Samantha Cristoforetti come cazzo si chiama l'astronauta che quella sono anni che che fa che pratica l'inglese e che deve comunicare solo in inglese perché non si a lavorare con non so altre associazioni sono molto limitato in termini di di cultura se c'è veramente sta sta gente sta la gente dovrebbe veramente la lavora smetterla di di cercare le 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 caption su caption su caption su caption su su sul sito per su google per 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 non cercare bene metterle per fare il sapientone perché io 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 quando quando io metto le mie captions io le cose adesso sono cose che ho imparato tramite anni di di studio di fiducia di fiducia anni di studio e di duro duro durissimo lavoro e non baro mettendo le caption guardando su google c'è mi è capitato anche in passato di di barare sì ma me forse mi capita mi è capitato una volta nella vita due volte nella vita questo fanno sempre 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 c'è c'era dire anche basta cioè sono stanco di 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 essere portato sui banchetti di scuola da gente che mette post con roba sconosciuta solo perché li cerca su google cinque secondi prima di mettere il post anche perché grazie al cazzo che sei più di me è appena controllato su google è appena però c'è sto cazzo ma vediamoci faccia faccia vediamo che ne sa di più